Devastata all'interno dai corrotti signori della guerra, oppressa dall'esterno dalle grandi potenze mondiali che avevano piegato la Cina il secolo prima. Cina, un paese di fazioni che cercano l'unità per diventare una nazione attraverso la rivoluzione. È morto. Andate via. Andiamo via tutti. Qualcuno li deve trattenere o non ci faranno mai arrivare al fiume. E se prendono lei, sapete cosa le faranno? Jack, per tutti i santi. Andate. No! Jack! No! Jack! No! No! Dobbiamo uscire di qua, Bronson! Va dal muro! Va dal muro! Ok, ora tutti fuori! Ora andiamo, Olman! Pronto? Pronto! 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 a a a a a Vengelo a casa. Che è successo? Che accidenti è successo? Che accidenti è successo? Che accidenti è successo?